Oggi chi lavora con Caleffi ha a disposizione un nuovo strumento. Interattivo, veloce, facile da aggiornare e da consultare. È un'app per web e mobile. Si chiama Pipesizer. Gli impianti Caleffi sono venduti in tutto il mondo. Eppure, fino a ieri, l'unico modo per calcolare le perdite di carico era consultare tabelle e diagrammi all'interno di grossi volumi. Per questo si sono rivolti a noi. Durante la mostra convegno ExpoComfort 2016, Caleffi ha presentato Pipesizer, un'app sviluppata insieme a Shin Software che permette di calcolare e gestire le perdite di carico in modo veloce e interattivo. Da web e da mobile. Una vera rivoluzione. Pipesizer è stata sviluppata sulle specifiche necessità degli idraulici, dei progettisti e degli impiantisti. Tutti i prodotti sono stati inseriti in un database disponibile in tutte le lingue e con tutte le unità di misura presenti nei paesi dove Caleffi opera. Al termine dell'evento lo stand Caleffi è stato tra i più visitati anche grazie ai contenuti sviluppati da Shin Software. I professionisti hanno iniziato a utilizzare Pipesizer e a richiedere altri strumenti simili per il loro lavoro. Il percorso verso il futuro è appena cominciato. A presto. 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 A presto.